Il porto della Spezia, così come quello di Marina di Carara che compete al nostro sistema portuale, non è mai stato chiuso. Noi non abbiamo mai ricevuto nessun atto, nessun provvedimento, nessuna ordinanza o decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che è competente in materia che dica che i porti sono chiusi, men che meno i nostri. Quindi ne deduco che i porti non siano chiusi ma siano aperti, i nostri come gli altri porti italiani. Una presa di posizione forte è quella della Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, che ha risposto così all'appello lanciato a lei e al Sindaco Peracchini da alcuni consiglieri spezzini per aprire il porto ai 49 migranti delle navi Sea-Watch e Sea-Eyes. Tra i firmatari il Consigliere Comunale Sarzanese Paolo Mione, l'ex Presidente dell'Autorità Portuale Lorenzo Forceri, il Consigliere Comunale di Lulia Andrea Fantini e il Consigliere Regionale Francesco Battistini. L'appello arriva in un giorno in cui anche Papa Francesco chiede solidarietà da parte dell'Europa a favore dei migranti bloccati a bordo. Io sono molto molto dispiaciuta per queste persone, penso che non meritino davvero un trattamento del genere. Una valutazione tecnica quella di Roncallo che assume anche una valenza politica, a tal punto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli ha dichiarato che valuterà azioni disciplinari nei confronti della Presidente del Porto. Diversa invece la questione dell'autorizzazione allo sbarco, operazione che può essere vietata dal Ministero dell'Interno. L'eventuale sbarco potrebbe essere vietato dal Ministero dell'Interno, mentre invece l'eventuale chiusura dei porti è competenza del Ministero delle Infrastrutture, essenzia dall'articolo 83 del Codice della Navigazione. Le navi Sea-Watch con a bordo 32 persone e Sea-Eyes con 17 sono in mare ormai rispettivamente da 16 e 8 giorni. Si trovano in acque territoriali maltesi con la situazione che a detta degli operatori sta diventando ogni ora che passa sempre più difficile.